Salve gente, io sono Luca e in questo epico video volevo parlare di un modo grandioso con cui potete rispondere a quelle persone che si lamentano sempre. Per esempio voi avete cucinato per loro, non so, li avete invitati a cena, avete cucinato per loro e quando però loro vedono magari, non lo so, che dentro del piatto c'è un cibo che a loro non piace, le carote per esempio, hanno da ridire, dicono eh ma a me le carote non piacciono, oppure eh ma a me le zucchine non piacciono, oppure eh ma a me i pomodori non piacciono. Un modo simpatico per rispondere e far tacere queste persone è questo è quello che passa al convento. Questa è una frase idiomatica che significa che la usano e la capiscono tutti gli italiani, allora il convento è il il luogo dove stanno le suore, i frati, quindi sapete cosa sono le suore, i frati spero, e il convento c'è la mensa, c'è il luogo dove mangiano tutti insieme i frati, tutte le suore, e ovviamente lì non è che hai il menù a scelta, non è che puoi scegli, hanno semicaro al ristorante, giusto? Lì ti accontenti di quello che ti danno, cioè ti danno il purè di patate, mangi il purè di patate, ti danno le carote, mangi le carote, ti danno la carne, mangi la carne. E questo detto, questo è quello che passa al convento, è un modo simpatico per far tacere questo tipo di persone che si lamentano, che fanno quello che noi chiamiamo in italiano le schizzinose, persone schizzinose, cioè che storcono il naso, storcere il naso, segnatevi questa espressione. Cioè fare quella faccia un po' di dire, ma a me questo non piace, e questo no, e questo no, e quest'altro no, e voi gli rispondete così, questo è quello che passa il convento, cioè questo c'è, punto, o ti accontenti o non c'è nient'altro, questo è quello che mangerai. Ecco, una precisazione volevo fare, ho fatto l'esempio della cucina e del cucinare e dell'offrire determinati cibi che non piacciono a queste persone, però questo detto lo si può usare anche in altri contesti, in modo metaforico, cioè se tu fai qualcosa e quella persona ha da ridire, nel senso che ti vorrebbe dire, nel senso, a me piace un altro tipo di cosa, però tu puoi fare solo quella cosa, o vuoi fare solo quella cosa, e gli rispondi così, questo è quello che passa al convento, quindi ti accontenti, se no, amen. Spero che questo detto vi sia piaciuto, come sempre se avete delle domande lasciate un commento qui sotto, per il resto vi saluto. Grazie. Grazie.